Ciao a tutti ragazzi, bentorni su di nuovo qui a giocare con l'Egitto Abbiamo dichiarato guerra a Tafilat di Buktu e Songhai per riuscire ad arrivare qui verso il Marocco Perché ricordiamoci che voglio sia finire le missioni dell'Egitto, che se non sbaglio dove li prende pure il Marocco Sì, 12 province del Marocco ce vanno In più voglio pure unifica l'Islam Tra cui mi serve sta provincia qua, quindi ce devo andare per forza in Marocco per fare ste cose Devo pure sfondare la Castiglia, quindi un altro po' ce manca Dopo di questa siamo pronti ad attaccare il Portugalo Il Portugalo, se riesco a prendere 5 province del Portugalo, tipo in Brasile Mi si fonda una colonia e io posso esportare, non ho fatto la cosa del Sud Poi con la Spagna, che la Spagna non ne ho idea di che combina Che la Spagna non ne ho idea proprio Devo attaccare qualcosa qui Mi sa che alla fine è una guerra con l'Inghilterra, non mi fa per esportare in Nord America Cioè che palle, che palle ragazzi Alla fine tocca pure attaccare l'Inghilterra Vabbè, comunque c'ho il flottone, il flottone per bloccare la flotta di Daffylant Oddio, in realtà non credo che seppa tutta sta flottona Quindi me la lasciamo a casa, secondo me finisco con i marinai Ok Abbassiamo la velocità, non c'è bisogno di stare per 5 Ok In più ho fatto i favori con Yao Posso fare 3 favor for trust Ok 100% di trust, perfetto Yao è il nostro alleato, inutile Però tra 9 punti posso annetterlo Se il diplomatico, anzi se il missionaire gli converte tutte province Questi probabilmente si convertono all'Islam e diventano i miei vassalli E in questo modo continuo pure a fare agnessioni diplomatiche Vediamo qui un attimo La governo incapaciti è bella alta al momento Vediamo se posso costruire qualcosa qui Sì Ok Dovrei aver finito tutte le cart house Tranne nelle colonie che sto a fa Sì Guarda poi qua c'ho questi Sti vassalli qua che spero che non cancellino la cart house Perché i vassalli sono maledetti Però tanto questi li annetterò tutti Quindi a sto punto ci costruisco le cart house già Ok Ok Bene Bene Molto bene Quindi come vedete si continua a convertire Qui cominciano a comparire in sacco le province musulmane Perché c'ho pure qua il controllo Cioè c'ho pure qua il mercante che converte Questa cosa è fortissima proprio Questi li ho lasciati qua Gli hanno dato il passaggio Ok andiamo a Tafilalto Senti Tafilalto ovviamente se può fare full annex No No non si può fa Ok devo fa così E poi voglio pure queste tre province in realtà Eh queste gliele darò a Ir Quindi prima ammazzo Songhai Gli prendo sui due province Poi prendo Timbuktu Qua se non sbaglio c'è proprio qualche meraviglia Eh tecnologici costa 10% Pocco 2 Mettiamo certe meraviglie assurde Comunque eh Ok tiè E senti Intanto stiamo pure andando avanti con la westernization Appena si può andiamo qua E facciamo 5% dei governi capaci di modifare Che eh oh ce vuole eh Qui ce vuole per forza 10 di amministrativa e technology costa sulla diplomazia Chi se ne frega Eh senti qui Senti al momento questo che me da 10 di trip power E 2 di merchant trip Vabbè pochissimo Cacqua Ti aiuto Ok Zero land ownership E qui non c'è più sconto la tecnologia Quindi togliamo pure questo E qui 20 di trade power 7 e mezzo di production efficiency Senti qui è 85 90 95 Niente 100 Devo togliere pure quello Ma Nizuva Forte qui Eh no qui ancora ne è finito Allora attenzione 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 Ok Qui 5 di assolutismo Sono arrivati Arriva la sultana del popolo 5 di assolutismo Con il nizuva Forte Quindi stiamo a 90 Ragazzi 90 Beh Toleranza di trufette Me lo voglio tenere Quindi io tolgo questo E questo Perfetto Perfetto Tiè 100 di assolutismo Ragazzi Se poi faccio macchiavelli O altre cose Posso ridacure qualche privilegio Quindi molto bene Molto bene Mi piace Mi piace Un sacco di roba interessante Gao l'ho vinto Vai a Timbuktu Tu fermate qua Tu Anzi tu vai qua Ti ormai stai andando là Vai là Ok Ho bloccato La costa Sto ragazzo Si Questi Uno va a Kala E uno va a Genè Che domo fa qua Walls of Burning E devi essere pagano E poi tanto fa schifo Lo stesso Ok Aumentiamo la governa incapaciti Vediamo 5% Quanto ce l'ha Eh 60 Le governa incapaciti E qui devo Spingere tutto là Qui mi spingo tutto Sta riforma qua Che arrivo a 20% Le governa incapaciti Modifier È fortissimo Spara Spara Tanti punti militari Non ci so Fa niente Air Ah Che sto In ordine alfabetico Può essere Ok No C'è il forte Che blocca Senti I song game Deve dare solo quelli Quanto ce vuole Per darmeli 22 Niente Parte dello state Sì Sì In realtà sì Eh in realtà Oddio se Vorrei anche Timbuktu Quindi mi sa che Prendo pure se Tu provinci Allora tu vai qui E tu vai qui 15 De legalismo Right now Eh Mi sa che c'è qualche guerra Per l'Holstein Ho visto che era partito Il disastro Dell'Holstein Qui No In realtà non è per quello Perché te sei appistato Con Genova Te stai appistato E che guerra è Fa Balcon Questo Sparia Ah Genova Tra poco Sparisce quindi Ok ottimo No perché Genova Era uno di quelli Che mi fanno la coalizione E Wason Giro E diventato Autonomo Quindi Questo è Wasteland Ok posso mandare Un colono qui Questa Ci devo mettere Cosa Ci ho trovato Loro qui Ottimo Ok Cartausa E Wason Giro Ok Senti Un generale con l'assedio Due Tiè Ho chiamato Questo è The Air Qui ho preso un altro castello E questo è The Air Tiè Si fu l'annex A Tafilat Gogo È diventato Autonomo Qui Già ce l'ho mandato E quindi niente Sono finiti Stato Colum Isto non fa niente È arrivato Eh c'è un mercante ballerino Eh vabbè questo Penso che sia quello del Pacifico Niente E allora sarà quello De Sì E questo qua Transfer Quello dalla Cina Allora questo non lo metto A convertir Ci metto 5 Red Power Questo è il ballerino Perché se vede Renge ho 50% Qui 28 ore Leve Cambia la politica Eh Ok Begging L'ho preso Vieni qui Ok Senti Songhai Si arrende Dammi pure i soldi Ok E va tutto ad air Quindi Tu Eh tanto Voglio fare bandiera Black Sicuro Ok Molto Senti ma Ok Ti è l'ultima E ora posso Cominciare a fare La gente Ok Quindi Non devi No No Nel amo Lucas Deve essere tutto Egiziano Vabbè niente Guggett Amicizia No Guggett Già ci ho mandato Mercante Gogo Dimensione del Croso Aiutaglia Amicizia Tiè Eh Eh Meno 26 Qua io devo pure Mandare calo Alla fine Vabbè Tiè Eh si Ricominciamo a fare Le Le Agende Scusa Magari Te esce Punti sviluppo Roba sexy Ok Quindi Ayr È arrivato Fino a qua Moitiamo Pure queste Tre province Anzi Pure questa No Niger Band Quindi Quattro province Pure a Timbuktu Le togliamo Tanto Questi Sono Felicisti Dei piedi Non Dicono Niente Anzi Mi converto pure Se stanno zitti Allora Fermate Ok Questi C'hanno 95 Tra sto 100 Ho 100 Ok A posto 72 81 Ok Questi Tra poco Gli viviamo Ragazzi In Buktu L'abbiamo Preso Ok Quindi 1 2 E allora Questi Possono Cominciare A venire Qua Ah Questo Sta Proprio Qua Da Da Zezaguanto Ok Quindi In Buktu E Di Ayer Azawad E Di Ayer Ovviamente La priorità Sono le prime Due Qua sopra 5000 Eh Posso Facare Sicuramente Una Meraviglia Sexy Ayer E Ayer Tiè Ste Quattro Mi devi Da Partendo Da sopra E Bastano Così Mazzavo Quanto Costa Dim Buktu Ah Bene Tiè Bastano Ste Due Così Di Corridoio Coop Da Fezzan Anzi Da Tafi L'altra Come si è Beccato La bandiera Black 5000 Senti Che meraviglia Posso far Kill Wasidi Due De Mercante In più Dieci De Trade Power Su E Uno De Prestigio Non è Male Ma Manco E Buono 15 De Reinforce Speed Più Innovative Ness Gain Questa Non è Male Un Mercante Aleppo Lascia Sta Oh Qua c'era Mezzo De Dollar Che Avviamo Subito Ok Qua Ho Beccato L'esercito 170 Mila Che Stanno Arrivando Mi sa Che Sto Esercito E Sparito Dieci De Prestigio Si E Sparito Basta Poraci Ok Barito È Stato Convertito Comunque Sto Perdendo Marinai Perché Prima Avevamo 70.000 Quindi Quando Dovrò Prendere Tutti I Marinai Che Ce Stanno Che Dovrò Prendere Tutta La Flotta Sarà Un Problema Ok Vai Si Desertone Magari De Levi Che Dici Sto Forte In Se P A Andiamo C'è Un Esercito Così Aumentare I Cannon Ok Influenza Tondo No Basta Il Dai È Stato Convertito Guarda Stiamo A Converti Cano Dai Sì Un Grande Advisor È Morto Quello Dell'esercito Qui Ci Mettiamo Uno Che Se Evolve C'è No Quindi Vanno Tutti A Casa Ho Completato L'agenda Improve Relations Con Ayutaya Ne Era Più Cento Boh Guarda Guarda Ante Conversioni Stiamo Fatti Tutti I Mercanti Ok National Manpower Ok Stiamo In guerra Sì Ti Oh Oh Sti Due Vanno Da Qua Sì Vanno Da Qua Ma Almeno In Generale Devo 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 Mettere Molto Bene Guarda Da Da Questo C'ha Tutti I Forti Sto Ragazzo Allora Questi Devo Via Così Sì Ah Io posso Poi Via Questo E qua Ha aumentato L'assolutismo Se vede Ha aumentato L'assolutismo Rimane solo Una provincia E va bene Così E mo Questi Sì Che Stanno Impicciati Ti Sbagliamo Sbagliamo Hanno Rifatto 20.000 Esercito Da Hanno Preso Non Si Capito Ma Questi Poi Non Sta Qua Mazza Manco In Ducaselle Separate Poi Non Sta E Papa Vole Passati Dei Passati In Egitto Per Andare A Genova Che C'è Confina Ok Senti Altre cose Qui De Gart House Gogo Ok Poi Queste Soccologne Va Bene Workshop Pini Sexy Qualcuno C'è Basta A proposito Ma sto Sopra L'esercito Molto Molto Va Bene Cerchiamo Di Rimettere In Paro L'esercito Comunque Tanto Ho Soldi A Stecca Non c'è Nessun Problema Sta Sopra Ok Ho Quasi Finito Il Regimento A Camp Sexy Però Se Poi Dovrei Sviluppare Tutte Ste Provincie Del Mio Subcontinente E Portarle A Sbloccare Un Nuovo Edificio Oppure Cancellare La Moschera Eh Annaggia Sai Quanto Ce Metto Ayudaia Toglier Diplo Non Serve Tanto Tatla Ok No È uno Però Levalo Che sto Mi sta a morire Esercito Cento Popolazione Kiguyu Kiguyu Fanno I Slaves Un Altro Su On Subject Che Dici Comunque 7 Su 6 Mo Devo Annette Il Prima Possibile Qualcuno Ah Questo C'è Passato Easy Eh 50 Ponti Diplo 2 Navi Rubate Ma se Io ho ammazzato Tutta la flotta Dai Ezi St'ultimo Forte Che dobbiamo Fa Quanto So D'assolutismo Per curiosità 27 Non posso Abbassare L'autonomia Non c'ho I belli Da ammazzare Mi ce lo teniamo Così Qua è un po' Anfa Ok Quindi Levamolo pure Da là Resistance Quarti Lo faccio A livello 2 Così Mi toglie La notifica E poi Mi sa Tocca Fafurale E poi Ok Marrakesh Eh Senti 99% Che domo Fa 98 No Dra E' Proprio Importantissimo La nostra provincia 21 De sviluppo Adra E va bene No Adra Nabbierò mai Ok L'Egitto Si è allargato Eh La scritta Egitto Ma è gigantesca Manco Controllato Se qualcuno Entra in coalizione Vabbè Ormai La coalizione È finita Questo Non entra più Gujarat Ma vuole bene Adal Nel 42 Ho rivisto Chilua E Chilua Lo vorrebbe Stare Tra un po' Sparisce La Tunisia Che è alleato Di Timbuktu Va bene Ok Se ve levate Un attimo Ok Qui intanto Va bene Guarda Air 200 amicizie Ok Cazzina Non può più S Fai Fai La conversione Rimettiamo Questo Qua in su Che mi sa Mi sono scordato Dele modifica Dele modifica Polisi Oh E qui Qualcosa De buono È uscito Ok Omo Air Eppure Importante Matrimonio Con Air Accesso Dalla Svezia E giustamente Per andare in guerra Con Adagimacca Deve passare in Egitto La Tunisia È finita Ok Subito Subito E poi Tocca Tocca al Portugalo Intanto Continuiamo A far corsa Che si può fare Giappone Ci manda i pirati Va bene Dai Oh E poi Siamo pronti Con il Portugalo Io devo prendere Una cosa Però Devo fare Un sbarco Un Brasile E quello è il problema Oh Sì Mi ha messo L'altra policy Haid Benadu Questa è buona Caravan Power 10% Ma la sparo pure Così la prendo subito Caravan Power Dovrebbe essere Trasferimento del commercio Via terra Non mi ha ammazzato L'esercito Prima di me Fa carpe siege Li dico Con Berau Sì Berau Come tra che so io Ok Andiamo qua Io ho beccato L'esercito Non può pure E' andata a nessuna parte Vabbè ma questo è wipeout Sicuro Ok A post Quindi pure questa è finita Devo andare solo qua sotto Due eserciti Penso che bastino avanzino Anzi Se hai invalido il team Burturo è un forte Dalla madonna Ok Eh vediamo se riesco a dare Forte air Gli auguri insulta Oh come gli auguri insulta Come gli auguri insulta E taci di te 10 di legalismo E sconto A cosa A tec amministrativa Tiè spara qui E 7000 stronzi E' forte Qui manco posso fare L'assalto Senti ma l'ha buttato Gazzimucca è forte No Non l'ha buttato Allora se potrò la forte Se potrò la forte Tutti i forti gratis L'hanno li cancella Quindi si vede Capisce che non gli costano niente Che la Tunisia Ovviamente è sparita Qui devo prendere Massimo 2 provinci A Timbulto Eh no Tutto volendo loccato Non si può fare Molto bene comunque Ragazzi comunque sta qua E come c'è arrivato Va bene Comunque Altri cart house Uno Anzi Regimenta camp Ok Abbiamo fatti tutti Quelli buoni E senti Ma con i soldi che c'erano A sto punto Fammi vedere Dove non conviene Tanto quello dipende Dall'autonomia Se diventa Un'egemonia commerciale Abbassa l'autonomia E migliorano pure Regimenta camp Nei re-company Diplo rep Eh ma non mi serve Diplo rep Eh ma Se vuoi vorvi quello Fate via tutti Questa è un po' Una cazzata Quando c'hai I three company Poi Poi fare Volpe L'avvisor Un modo di Blu rep Morale Delle navi Trade Deficiency E comunque 15 costano All'avvisare Allo 5 È aumentato Il costo Questo C'ha 52 anni Questo Tra poco Ci saluta 500 Ma l'ultimo 1000 Mazza No no Non voglio Nessun palazzo Non ti preoccupare Ok Ma qua Come stiamo Oh Ma guarda qui Ma fa tutte le cose Madagascar Qua Manca pochissimo Manca pochissimo Ragazzi Tonga E vabbè Qui Erano di selvaggioni Che stanno là Qui ho finito Qui Stonna forte Qui Tra un po' Sundua Diventa tutta Così Timbuktu Ho vinto Finalmente Ok vai qui Senti Hai da sola La poppia Sta provincia Sì Forse anche me Ma quindi Dai La fine L'avevamo fatto La fine L'avevamo preso tutto Pagaglia lunghe È stato Convertito Che manca Qui da Convertì Ah Mo qua Sarà qua Eh no Questa è Un'altra cosa Ah qui Manca questa qua Vedi È già partito Oddio Non lo so In realtà Ok Air Tiè Se può fare così 90 Sì Se può fare Ma c'ha l'esercito Da qualche parte Speriamo che non sia andato A far tour de France Da qualche parte Ah no Io ho beccato Ok Già l'attacca Ragazzi comunque Regimento a campo Ovunque Ok Finito Beh penso che Con le province occupate Anche non del tutto Ok sì Quindi 31 Chiè Rosica Songhai E Timbuktu Vabbè ma quelli tra poco Ritornano Ritornano Neutrali Chiè A Tunisia Ha perso 13 giorni Chi è Chi è Corazan Rosica E che te rosichi Ce l'hai in matrimonio Sì Tiè Due punti di sviluppo Che te rosichi Sì Cinque giorni Tiè Mi sta a dare trade Quindi starò tipo Mezzo Anna falliti Oh Ora che sparisce La Tunisia Questa è una bella Una bella botta La coalizione Perfetto Qui saranno tutti La religione giusta Manco c'è Perdo tempo Ok Oddio qui magari No Il cristianesimo Non ha fatto danni Qui Ok quindi Posto Tutto in 3 company E qui Ho rimediato Una meraviglia Forte nel culo E qui Ho trovato Un mercato Ok Masapa È stato convertito Converzioni Goatte In provincia Altrui Ok Molto bene Vediamo se ho preso Qualche mercante nuovo Da qua No Gujarat Maximize Proxit È peccato Buduan Se vuole sposare Senti Ma questi Insomma Questi Lerci Li posso Ammette Buduan Me l'ho Vassalizzato Pochissimo Nel 45 Eh Lu Posso Vassalizzato Sicuro Sì Ma Non Non Me ama Non Me vuole Bene Vabbè Allora Me lo tengo Un pochetto Così Regimental Camp Mo si Finiscono Questi Core Ragazzi E si Attacca Portogallo Mamma mia 1470 Cioè Non si Finisce Mai Senti Mentre Aspetto Che faccio I primi Core Famo Già I cart House Così Il problema Se mezzo Risolve Te sei fermato Eh Ah no Gujarat Rimetti da convertire Gujarat Posso aggiungere Tutto Entro i compri Eh Sì Eh Sì Ma poi Tanto In ogni caso Il mercante Converte pure Se sta Se Converte Lo stesso Quindi Vediamo se Mi sono scordato Qualche provincia In questi Altri posti Pare De no Qui Manco Coromandel No Qui si vola Si vola Ragazzi E qua Mi sono scordato Qualcosa Invece Ai grandi laghi Queste ultime Due Abbiamo finito Atal 42 Sivista Tech Amministrativa Ma costa Per caso Sì 100 punti Ma qua Mi dai Faccio questa Ragazzi Faccio questa 191 giorni Forse ce la facevo Ma non me ne frega nulla Facciamo questa Albania Scusa Scusa ma qui E qui Mi sono Mi sono perso Qualche provincia Ok E che altro c'è qua A Malta Eh Malta Deve essere Three Company Poi Diado Three Company Oh questo Mi ritrova tutti Buono Ok Oh Ora ho convertito Gli ultimi copti Posso clicca qua Ifat E pure qui Ok Ho beccato tutti Questo giochetto E qui c'era Un centro commerciale Da potenziare Ok Potrei fare Un'altra Delle cose Della modernizzazione Ma che sto così In alto Dei governi incapaciti Ma guarda un po' Sono matto E io farei Che faccio Guarda Io direi Fare un rush Verso Adopt Western Unit Ok 98% D'erran Se sa perché Ok Senti ma se mi ha aumentato Sai l'esercito In linea teorica Dovrebbero essere pure aumentati Mamelucchi 50 Mamelucchi Posso fare Ok Cancella qui Però sto sopra Vabbè Chi se ne frega Ok Quindi facciamo 5 10 15 20 4 Cavalieri E 10 Cannoni 1 E mo quanti ne ho fatti O sta solo qui sto cacco Va bene Quindi dai ragazzi Io con questo vi saluto Ci vediamo nella prossima puntata A presto